Ragazzuoli miei, ci sono tranquillamente i presupposti perché questo possa essere a tutti gli effetti un buongiorno, questo non ce lo possiamo negare, così come non posso minimamente negare quello che è il titolo di questo video, che se questa cosa fosse vera godrei, godrei e non poco, in attesa ovviamente di vedere questo giornalista poi totalmente disperato senza neanche la possibilità né fisica né tantomeno economica di avere neanche un paio di mutande da cambiarsi, ma questo ovviamente lo vedremo giustamente perché che cos'è che è successo ieri, qual è la notizia del giorno a tutti gli effetti che è a cavallo tra ieri e oggi, stando a ciò che ha detto il cervo di Cornovagli in persona sul suo profilo Twitter, Andrea Agnelli una volta terminato l'incarico da presidente della Juventus pare si sia concentrato per vie legali nei confronti di Paolo Ziliani, solo per il fine di silenziarlo ovviamente e questa cosa non è che sia particolarmente di buon auspicio per Andrea Agnelli considerando che tutti i suoi predecessori che avevano cercato in un qualche modo la stessa cosa poi di fatto hanno sempre perso. Cazzo, fosse vero, fosse vero, lascio il fosse vero perché ovviamente rimane pur sempre una cosa detta da Paolo Ziliani, quindi una cosa che nonostante tutto per quanto indubbiamente possa far piacere rimane una cosa con bassa, bassissima percentuale di credibilità, quindi io a questa sua affermazione lascio sempre il beneficio del dubbio. Ci credo, non lo so, vedendo comunque bene o male il tono vittimistico che ha utilizzato all'interno del suo tweet dove ha dato a tutti la possibilità di apprendere questa cosa non mi stupirebbe se appunto fosse una cosa fatta quasi no solo ed esclusivamente per vittimismo perché insomma che fa anche strano no da un certo punto di vista nel momento in cui si parla di uno che accusa, accusa sempre comunque con dei toni che spesso e volentieri sono anche abbastanza importanti, sono molto importanti, ad esempio nell'ultimo decennio Paolo Ziliani nei confronti di Andrea Agnelli spesso e volentieri ci è andato giù anche con paragoni molto pesanti paragonando la Juventus alla mafia spesso e volentieri, in un modo o nell'altro all'interno di tweet veniva accostata magari la parola mafia in un qualche modo alla figura di Andrea Agnelli direttamente, indirettamente e tutto quello che vogliamo, quindi io da un certo punto di vista posso capire che magari sai finché sei in carica come presidente della Juventus, non dico che certe cose le fai passare però stando a quelli che sono i trascorsi evidentemente anche sì nel momento in cui la tua carica finisce qualche sassolino dalla scarpa te lo vuoi togliere e magari vuoi agire in prima persona per vie legali nei confronti di personaggi come questi, poi io se sia vero, non sia vero, non lo so, cioè nel senso qui lascio il beneficio del dubbio, è quello che ha detto Ziliani, quindi presumibilmente no, ci può stare credere che sia una cosa effettivamente accaduta e non posso dire nient'altro se non, beh, innanzitutto finalmente, cioè alla buon'ora no, vedendo tutto ciò che sta dicendo e tutto ciò che ha sempre detto nei confronti della Juventus effettivamente magari no, anche alla buon'ora viene semplicemente da dire e soprattutto poi speriamo, secondo step, che tutto eventualmente ci mancherebbe possa andare per il meglio però dici, cazzo, considerando la gravità di molte cose che ha detto, magari anche in questo caso proprio nei confronti del diretto interessato, come si fa a perdere? A uno banalmente potrebbe venire da dire non lo so, lascio sempre il beneficio del dubbio, non lo so, non lo so, effettivamente non lo so se tutti gli altri avevano perso, magari, oh, bravo lui, che riesce sempre a vincere nonostante accuse o comunque insinuazioni, illazioni che puntualmente, spesso e volentieri, vengono fatte però non so, onestamente ragazzuoli, son sincero, se crederci profondamente oppure no a questa cosa perché, boh, nessuno sapeva niente, lo scrive lui su Twitter, certo in modo anche abbastanza vittimistico solo per silenziarmi, sai, se a uno viene buttata della merda 365 giorni l'anno per tot anni a una certa ci può anche stare magari che si rompa i coglioni, a me viene banalmente da dire però, indubbiamente, anche per fortuna, mi sento di dire la penso diversamente da Ziliani e ci mancherebbe altro il mondo è bello perché vario io allo stesso tempo riesco a passare dalle porte senza sbattere le corne quindi ci sta ognuno a modo suo e diverso e ne prendo semplicemente atto l'unica cosa che davvero mi auguro non è tanto il fatto che sia vera questa cosa è la speranza appunto di vedere Ziliani con neanche un paio di mutande da cambiarsi ecco, la mia vera unica speranza onestamente è questa qui cioè, né più né meno, non è che ho particolari cose da aggiungere in primo luogo tocca stare a vedere se effettivamente è vero è già qui, non lo so in secondo luogo spero che Agnelli vinca e poi per terminare, naturale conseguenza delle cose Ziliani senza neanche un paio di mutande ecco, tanto voglio dire gli alimenti non sono un problema lì ci pensa Montero poi per il resto, chi lo sa per il resto poi, oh, tutto può accadere ci mancherebbe altro però mi sembra troppo strana come notizia non so come prenderla sinceramente non so davvero come prenderla comunque ad Andrea Agnelli io nel dubbio faccio un in bocca al lupo sia per quanto riguardi il suo futuro a livello di vita privata ci mancherebbe altro ma soprattutto anche magari da questo punto di vista qualora fosse effettivamente vero e speriamo, speriamo e una volta terminata la parentesi Andrea Agnelli che fino a prova contraria sì, rimane in parte un proprietario della Juventus perché comunque una quota anche abbastanza importante di azioni indubbiamente le ha io ora onestamente mi auguro che anche la Juventus stessa inizi a fare delle cose di questo genere già sto apprezzando tanto le risposte a livello mediatico che puntualmente vengono fatte come quelle dei comunicati quando uscivano determinate notizie riguardo le varie inchieste stessa cosa abbiamo visto una volta terminato il servizio di report sempre riguardo la questione plus valenza della Juventus e di questa cosa ne sono contento mi fa dannatamente piacere perché significa ed è evidente che da questo punto di vista a livello comunicativo un qualcosa si è cambiato d'altronde abbiamo messo lì Scanavino che è uno del G di gruppo uno che qualche giornale lo gestisce quindi magari no anche a livello comunicativo forse un qualcosa hanno deciso di rivisitarlo però anche a livello legale onestamente mi auguro che possa cadere una cosa sulla falsariga perché per quanto il nome di Agnelli naturalmente è legato in maniera indelebile a quello della Juventus si parla fino a prova contraria di un cittadino mentre invece mi auguro proprio che la Juventus inteso come club come società inizia a fare cose di questo genere perché poi ci potremmo divertire ma divertire veramente tanto adesso non riusciremo sicuramente a fare tutti quei soldi per mettere a posti bilanci però se inizio a muoverti nei confronti di X nei confronti di Y nei confronti di Z in un qualche modo qualche goduria potremmo anche togliercela ecco e per il resto nulla ragazzuoli buongiorno buongiorno e ci sono tranquillamente i presupposti perché questo possa essere un bel giorno ma le notizie vere mi auguro possano arrivare in un futuro riguardo questo argomento qui e detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Ciao!